Sul campo neutro di Tossicia, l'ultimo allenamento congiunto prestagionale tra il Pineto e il Montorio termina 1-6 per l'11 di Mr. Daniele Amaolo. In vantaggio i Biancazzurri al 14esimo con un calcio di rigore procurato da Braghini e realizzato da Losicco, successivamente è Giambè a raddoppiare al 25esimo. Nella seconda parte dell'allenamento congiunto le Vespe accorciano con un gran gol firmato di Sante che toglie le Ragnitele dal 7 e beffa il giovanissimo Fois. Per i Rivieraschi ci pensa Allegretti a riallungare le distanze al 60esimo dopo un bello scambio all'interno dell'area di rigore. Nel finale Festival del gol, tutto in 10 minuti, da prima a Foglia, beneficia di un ottimo filtrante di un compagno, successivamente nuovamente Allegretti, con un bel mancino fredda l'estremo avversario e sigla la doppietta personale, a tempo ormai scaduto e maio ad aggiungersi al tabellino dei marcatori. Buoni segnali dunque per Mr. Daniele Amaolo che recupera anche Simone Mercorelli in porta, in vista del debutto nella stagione regolare domenica prossima allo stadio Mariani Pavone nel derby con il noteresco di Mr. Tiziano De Patre. Altro match questa volta valido per la prima giornata di campionato di serie di Girone F contro la neopromosta Termoli domenica 4 settembre.